Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. La nuova edizione del Grande Fratello sta per fare il suo trionfale ritorno a settembre, e l'attesa tra i telespettatori è alle stelle. Con la diciottesima stagione alle porte, Alfonso Signorini è impegnato a mettere insieme un cast stellare che promette di sorprendere il pubblico. Numerose celebrità sono state contattate, ma tra queste non ci saranno né il leggendario Albano Carrisi né Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality. Le indiscrezioni sul nuovo cast stanno già facendo il giro del web. Tra i nomi che circolano ci sono, il personal trainer Cristiano Jovino, la modella Garance Autie, Paola Barale, Nicola Tedde, ex di Temptation Island, Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, l'ex tronista Brando Efrician, l'attrice Vera Gemma, Yasmin Carrisi, Viola Valentino, e un celebre chef televisivo. Sui social network è trapelata la notizia che Federico Chimirri potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti. Signorini è impegnato in una corsa contro il tempo per finalizzare il cast della nuova stagione, lavorando incessantemente. Il reality dovrebbe tornare in onda tra il 16 e il 23 settembre, sebbene queste date siano ancora da confermare. Chimirri, noto per essere stato corteggiatore a uomini e donne, e partecipante a Masterchef Italia 2021, potrebbe fare il suo ingresso nella casa più famosa d'Italia, magari accompagnato dalla sua compagna, stando agli scatti comparsi sul web. Prepariamoci per un settembre ricco di emozioni e colpi di scena. Quali sorprese ci riserverà questa nuova edizione del Grande Fratello? Commenta qui sotto, con le tue previsioni e aspettative. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie